EGAS, l'ente di governo dell'ambito della Sardegna, ha approvato il progetto per il terzo lotto di interventi previsti nel centro abitato di Iglesias, finalizzati alla riqualificazione idrica del territorio comunale e ha dato così via libera al documento redatto dai tecnici di Abano S.P.A., di fatto immediatamente appaltabile, che prevede la realizzazione di 882 metri di nuove condotte e 75 allacci in via Pescivendoli, località Cappuccini, nel tratto compreso tra via Falcone e via Farda, via Conce, via Tempio, via Corsica e Vico Cappuccini. I lavori per un importo di 630 mila euro sono finanziati da EGAS a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, nell'ambito di un più ampio intervento da 44 milioni di euro che interessa altri centri dell'isola e volto all'efficientamento della rete e al contenimento delle perdite idriche. Il progetto dell'otto B di ultima approvazione va ad aggiungersi ai lotti AEC che hanno ottenuto il via libera da Legas nelle scorse settimane e che complessivamente prevedono la sostituzione di oltre 3 chilometri e 700 metri di vecchie condotte sottodimensionate e in materiali ormai obsoleti, oltre alla realizzazione di 384 nuovi allacci per un valore complessivo pari a circa 1 milione e 750 mila euro. Stiamo dando delle risposte concrete alle reali esigenze del territorio, dal nord al sud dell'isola, ha spiegato il presidente di EGAS Fabio Albieri, dove le reti idriche sono faticenti e il fenomeno della dispersione idrica è un reale flagello per l'ambiente.